3, 2, 1, vai! Oh madonna! Gli abbiamo schiacciato le palle! Prego! Aiuto! Fai così! Giralo così! Così va! Devi girarlo così e spingerlo là! No, devi girarlo qua così! Così? Giralo! Girarlo qua! Vai! Rosa! Vai! Ok! Che dite? Eh insomma! È un po' una merda! Devi tagliarlo! Aspetta! E questo te lo tieni! Perché fississi i trefatti? Eh! Deve fare il percorso! Vita! Tagliamo via questa va bene! Perché vedi che è appoggiato! Dai! Taglia via questo anche se ormai... Solo con il fettino qua! Questo qua! Ah! Ma va la sì! Lo stupido qua! Tanto non si riesce a tenere a trovare! Mi spianarlo via un pezzettino! Oh! Oh! No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cosa? Un altro pezzo di legno? Taglianne uno corto e lo metti dentro. Si può provare. Perché vedi che o si allarga... Ecco, forse conviene lasciarlo lì e mettere un pezzetto. No, qua si vede. Ma qui va contro ancora. Guarda quanto spazio c'è. Esatto, chiudilo bene. Qui va contro. Adesso vado... No, no, mettilo contro. No, no, no. Grazie.